eccoci e bentornati sul mio canale ragazzi speciale 50.000 qualcosa veramente di incredibile non l'avrei veramente mai immaginato e in concomitanza proprio di questo traguardo mi è arrivato un regalo della Treyarch non so se è una coincidenza se è qualcosa di strano perché è uscito Black Ops 4 adesso vi faccio vedere prima di iniziare con l'unboxing del regalo che mi ha fatto la Treyarch e volevo ringraziarvi ragazzi per il supporto che stai dando al canale grazie mille è dal 2012 che sono qui su youtube se non sbaglio luglio 2012 porto da anni notizie su Call of Duty siete sempre vicino nonostante alti e bassi del mondo di Call of Duty quindi volevo ringraziarvi in particolar modo i miei amici che mi hanno sempre supportato Marco Stefano e Fabrizio che mi hanno aiutato tantissimo con il canale mi hanno supportato mi hanno aiutato con i giochi mi hanno aiutato con la connessione quindi grazie a voi ragazzi grazie ai miei amici 50.000 persone che mi seguono è veramente qualcosa che ragazzi non mi sarei mai immaginato portando avanti appunto questa passione vediamo il regalo che mi ha fatto la Treyarch e poi facciamo l'unboxing lo prendiamo subito eccolo ragazzi la mystery box edition di black ops 4 qualcosa di gigantesco di pesantissimo dovrebbe essere vicino ai 10 kg qualcosa del genere l'apro ragazzi così vediamo tutto il suo contenuto cioè ragazzi è qualcosa veramente di enorme di gigantesco qualcosa veramente di assurdo allora vediamo un po c'è voyage of despair il poster della mappa zombies appunto di black ops 4 per i 10 anni appunto di call of duty zombies della saga di black ops ci sono praticamente i puzzle dovrebbero essere mille pezzi se non ricordo male call of duty zombies il decimo anniversario puzzle mille pezzi premium puzzle 1000 pezzi 19 x 27 ve lo faccio vedere questo è l'altro contenuto no regà potete immaginare che c'è sta dentro ce l'ho visto perché praticamente già conoscevo questa versione ma vederlo dal vivo è qualcosa di assurdo vi faccio vedere intanto il pezzo sopra ragazzi guardate che cavolo è la mystery box zombies mamma mia quanto cacchio è bella guardate regà c'è veramente bellissima questo è solamente il coperchio fatta benissimo non potete capire quanto cacchio pesa cioè è pesantissima all'interno ci sono i fumetti di call of duty zombies eccoli qui storia di jason blandelle e craig houston questo è il primo episodio dark ois comics questo è il primo episodio poi c'è un contenuto di black ops 4 andiamo subito a vedere cosa c'è c'è una medaglietta di black ops 4 al suo interno eccola qua la steelbook da collezione di black ops 4 guardate che bella in alluminio bellissima l'apriamo e ovviamente dentro ci potete mettere il gioco le toppe relative appunto a black ops eccole qui di tutti gli specialissimi guardate che belle guardate che belle aspettate che mi metto a favore di camera guardate che belle mamma mia sono proprio in tessuto so quelle che si possono poi attaccare e poi le figurine di zombies eccole qua guardate le fig piguin dei zombies dei quattro personaggi appunto zombies veramente molto molto carine in 3d questo è il retro mamma mia quanta roba c'è sta dentro a sta cassa zombies questo è un pezzo di plastica ed ecco la scatola ragazzi mamma mia quanto cacchio pesa è enorme è pesantissima è gigante quanto cacchio l'hanno fatta bella la mystery box metto pure il coperchio così ve la faccio vedere mamma mia che cavolo è cioè guardate che cavolo è ragazzi è veramente qualcosa di assurdo bella bella non potete capire quanto cavolo pesa mamma mia grazie mille a treiarche che regala su cioè la mia prima edizione della collezione di call of duty considerate che io poi ho giocato da call of duty da lontano 2006 e non ho mai preso un'edizione limitata di black ops o di call of duty modern warfare mamma mia già solo il coperchio mi fa impazzire e poi la cosa bella vediamo se riesco subito a farvelo vedere in favore di camera c'è questo alloggiamento vedete questo qui che praticamente andandolo ad aprire con con il cacciavite ci mettete se non sbaglio tre stilo si illumina perché sotto c'è un tasto che vi permetta appunto di accenderlo e spegnerlo fra poco ve lo faccio vedere quindi che dire ragazzi un ringraziamento va a voi che mi avete fatto arrivare a 50.000 iscritti non so veramente come ringraziarvi vi abbraccerei tutti quanti mamma mia siete veramente tanti 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 vi volevo dire cosa importante nei prossimi giorni tantissimi video informativi su black ops 4 parleremo delle nuove mappe delle nuove armi del season pass parleremo delle stagioni annunciato in stile fortnite parleremo del mercato nero c'è veramente tantissimo di cui parlare quindi rimanete sintonizzati con guide e quant'altro grazie ancora per questo importantissimo traguardo e non mi sarei veramente mai aspettato grazie a treyarch guardate quanto cacchio è bella questa mystery box che mi metto in cameretta ci metto dentro tutti i contenuti di black ops 4 e non solo è veramente bellissima purtroppo non trovo tre stilo per poterla accendere così ve la facevo vedere se eventualmente farò un altro video dedicato ve la faccio vedere nei suoi miei social quindi un ringraziamento a treyarch ed activision per il supporto e questo bellissimo regalo un ringraziamento a voi che mi state seguendo in tantissime sono veramente contento che vi piaccia questo call of duty quindi finalmente si torna a nerdare e niente ci vediamo con tanti nuovi video grazie ancora non so più come dirvelo e niente ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti